voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio cari simblu ragusa cari amici che ci ascoltate un saluto a voi tutti da vincenzo la cognata e bentrovati in occasione dell'iniziativa chiamata la tenda dell'ascolto organizzata dal centro diocesano vocazionale a sostegno delle comunità ecclesiali abbiamo il piacere di avere ospite presso i nostri studi suor daniela turrisi appartenente all'ordine delle suore francescane del vangelo nonché membro del centro diocesano vocazionale che saluto e ringrazio per essere qui con noi grazie a voi pace e bene a tutti un saluto caro alla redazione ma a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo via radio via facebook sul sito internet un caro saluto ed è un piacere trascorrere con voi questi momenti suor daniela quando è nato l'input per l'iniziativa l'input è nato un po l'anno scorso come centro diocesano vocazioni ci siamo chiesti alla luce un po anche dell'evangelii gaudium del sinodo che si stava per aprire rivolto un po ai giovani come potevamo fare arrivare un messaggio nelle nostre comunità parrocchiali un po sulla cultura vocazionale proprio perché il concetto di vocazioni spesso vocazione uguale prete uguale suora mentre invece sappiamo che non è proprio così ma come cristiani come battezzati tutti abbiamo una vocazione tutti siamo vocati chiamati dal signore a un servizio a una dimensione di inserimento ecclesiale ma anche nella propria vita proprio a uno stato di vita e allora un po sotto questo stimolo come centro diocesano vocazione abbiamo proposto alle comunità parrocchiali la tenda dell'ascolto cioè una settimana in cui come centro abbiamo girato nelle diverse parrocchie della diocesi per diffondere appunto questa cultura vocazionale e in quella settimana abbiamo incontrato tutte le realtà parrocchiali dai cresimanti ai grandi ecco proprio perché la vocazione a 360 gradi e prende tutte le fasce di età naturalmente abbiamo privilegiato giovani e giovanissimi perché l'età in cui ci si pongono più queste domande di scelta di vita no cosa fare della mia vita come inserirmi anche nell'ambito parrocchiale ecclesiale quindi un po' era una settimana in cui la parrocchia si metteva in ascolto in ascolto proprio della vocazione della dimensione vocazionale avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa